e confronto. Noi ci siamo cascati dentro il gioco d'azzardo, in alcuni incontri che abbiamo fatto con i comuni abbiamo scoperto il problema che era e abbiamo semplicemente raccolto dai comuni la richiesta di parlarne e di unirsi per fare delle cose insieme. Oggi riscontriamo in maniera molto positiva il fatto che il governo consideri questo tema un tema di priorità sociale. Chiediamo di scandaliare fino in fondo che cosa significa questa questione, un tema di priorità sociale perché allora probabilmente si scopre che sia difficile scendere gli effetti dell'impresa del gioco, quindi gli effetti di un'attività economica con una rilevanza così alta come ce l'ha in Italia dagli effetti sociali e dagli effetti patologici che produce. Quindi la nostra richiesta che portiamo dopo una serie di incontri fatti con i comuni, infatti all'interno della Scuola di Buone Pratiche che sviluppiamo insieme con Terra e Rimezzo è questa questione di andare a verificare questa impresa di Stato, le caratteristiche di questa impresa di Stato. Altra cosa che noi chiediamo di verificare è, vediamo positivamente l'interesse all'incontro da parte del sottosegretario e quindi da parte del governo con tutti i soggetti interessati perché non vorremmo che questo decreto desse avvio a una serie di ulteriore contenzioso tra i territori e il governo. La vice sindaco di Milano prima faceva riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale che separa gli aspetti di autorizzazione del gioco dagli aspetti invece di prevenzione sociale, prevenzione sanitaria che sono dei mandati agli enti territoriali e alla sentenza della Corte Costituzionale sono succedute tra l'aprile, il marzo e l'aprile del 2014, tre note del Ministero dell'Interno rivolte ai questori prima della Lombardia e poi a tutti i questori d'Italia in cui li invitava, e le note sono ancora valide, non sono state ritirate, quindi li invita nel momento in cui autorizzano e sottolinea che l'autorizzazione spetta solo ai questori, però li invita a dire ai soggetti che ricevono autorizzazioni che devono rispettare i regolamenti territoriali. Noi oggi abbiamo 16 regioni che hanno fatto leggi regionali, abbiamo tantissimi comuni che hanno fatto regolamenti comunali, abbiamo tutte le città più importanti della Lombardia che venivano ricordate prima dal vice sindaco di Milano, sarà difficile avere un decreto che non sollevi contenzioso se non si armonizzano le decisioni del governo con le necessità delle regioni e dei comuni. sui quartieri Alce Rossa una cosa, noi abbiamo diversi comuni che oggi hanno fatto mappe già referenziate del gioco d'azzardo prima dell'entrata in vigore della legge regionale sulle distanze. Allora tutte le mappe ci dicono una cosa, compresa quella della città di Milano, che il gioco in assenza di regolazioni territoriali comunque si è sviluppato in modo difforme nelle città, si è sviluppato in alcuni quartieri e non in altri e nei quartieri dove si è sviluppato, guarda caso, si sviluppa anche la criminalità. Le indagini fatte sulla città di Milano poi ne raccontano alcune, ma noi abbiamo anche comuni piccoli che registrano questa cosa. Allora i quartieri, e non solo, la cosa che ci amareggia di più, veramente ci fa soffrire con i comuni è il fatto che dove c'è il gioco, dove c'è presenza di gioco, offerta di gioco, c'è degrado sociale e urbanista. Prima venivano ricordate alcune vie di Roma, ma noi lo viviamo dentro. Tra l'altro con effetti continuamente problematici, perché prima avevamo soltanto la presenza della criminalità nei luoghi del gioco. Oggi abbiamo i bar e i locali che offrono il gioco che non hanno più interesse a rinnovarsi, che hanno interesse a chiudere gli altri servizi che danno ai cittadini, con veramente un degrado urbanistico e sociale che ci preoccupa. Allora noi consegniamo al sottosegretario queste preoccupazioni, la richiesta di arrivare a un decreto che sia condiviso, proprio per evitare il nuovo contenzioso, perché sarà difficile fermare le regioni comuni. Quindi bisogna armonizzare, bisogna tenere insieme la normativa del governo, quindi una normativa nazionale e le normative locali. E riteniamo, questo lo abbiamo, ci riflettevamo nell'ultima sessione della Scuola Buone Pratiche, dove ha partecipato anche il senatore Mirabelli, che ringraziamo. Bisogna tenere insieme, quando parliamo di gioco, il gioco, la povertà, la legalità e il nuovo welfare che si sta sviluppando nei comuni. Sono temi tra loro fortemente legati, sui quali noi andremo avanti a sviluppare le nostre riflessioni e la nostra iniziativa con i comuni. Ringraziamo moltissimo e buon lavoro.